Era il 2011 l'ultima volta in cui gli Scorpions hanno suonato in Libano. L'occasione è un festival annuale organizzato a Biblos, nella costa nord del paese. Venerdì scorso la band Hard Rock tedesca è tornata nel paese per un concerto nella capitale Beirut. Un modo per portare un messaggio di amore e di pace nella città del Medio Oriente che unisce il fascino del vecchio mondo con la modernità di un'effervescente vita culturale notturna. In qualità di musicisti vogliamo dire alle persone siamo esseri umani, vogliamo che ci sia più amore, vogliamo accettare pensieri diversi ma anche altro, vogliamo celebrare insieme qualcosa di grande. Il nostro motto è amore, pace and rock and roll. Still Loving You, Rock You Like a Hurricane e soprattutto Wind of Change, alcuni dei brani che hanno reso il gruppo famoso in tutto il mondo. Concerto sold out, fan invisibilio, felici che il rock irriverente di un gruppo musicale che viene dall'altra parte del mondo sia arrivato in Libano. Come spiega questo ragazzo, tutti conoscevano le parole dei testi, dice. Questo significa che la musica non conosce confini, è universale ed è immortale.